Mio fratello Frank doveva rientrare dal Vietnam entro la settimana. Non ci eravamo più visti da quando mi arruolai. Frank sembrava avere così pochi momenti di tenerezza. Non volevo interrompere la festa. Mi sei mancato, Frank. Anche tu. Joe è un poliziotto. Ho dovuto ammanettarlo alla sbarra. Come posso aiutarlo? Frank è un assassino. Sono diventato violento. Se vedo uno che mi guarda male, sento l'istinto di vestarlo a sangue. Allora cerco una scusa per saltarvi addosso, capisci? Due fratelli che non avevano niente in comune, tranne il sangue. Voglio che torni a casa con me. Te ne stai un po' in famiglia. Così stai fuori dai guai e ti trovi un lavoro. Vuoi scherzare? Non ci penso nemmeno. Ti sposo. Comunque è un ragazzo molto inquieto quel Frankie. Scusami, devo aver perso la bussola ieri sera. Lo so. Voglio aiutarti ma non ci riesco. Sei l'uomo più rabbioso che conosco. Perché ti piace fare del male? Ci sono solo due tipi di uomini in questo inferno. O sei un eroe o un fuorilegge. Tu cosa sei? David Morse. Perché? La cosa ti fa tanto paura. Vingo Mortensen. Ma perché? A te non fa paura. Valeria Golini. Patricia Arquette. Dennis Hopper. E Charles Bronson. Da chi avrà preso, Joe? Non lo so. Lupo solitario. Non lo so. Grazie a tutti.